Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Jinchakamer89 Lo so, oggi è un video molto particolare Un video su un gioco che purtroppo è andato fuori moda Ma che tutti noi, almeno una volta, abbiamo provato Stiamo parlando di Pokémon GO Per chi non ci crede, ma so che i miei fanno lo sanno Io comunque sono appassionato, fino a un certo limite, di Pokémon in generale È stata la mia infanzia, come è stata l'infanzia di tutti quanti Per un periodo ci ho giocato tantissimo a Pokémon GO ragazzi Ma seriamente, poi purtroppo come un po' tutti la cosa è scemata Ma vi devo dire che con gli ultimi aggiornamenti Mi è ritornata voglia di giocarci, devo essere sincero Di fatto siamo di livello 26 Come state vedendo in questo momento Siamo di livello 26 Il mio compagno è un bel charmenderino Perché oggi siamo qua Allora, innanzitutto, prima ho fatto un ride Per la prima volta nella mia vita E, appunto, ho preso un Croconov Che comunque non è malissimo Però è stata una soddisfazione Ma più che altro, voi sapete che io adoro gli starter d'acqua Quindi oggi ci andiamo a fare evolvere Squirtle in Blastoise Prima in un nuovo da 10 ho trovato Merip Che comunque sappiamo che potenziato diventa una bestia davvero incredibile Potremmo anche, volendo, portarcelo su Però vedremo più avanti Allora, in cronologia Andiamo in Preferiti Ah, tra l'altro ragazzi Se questo ritorno vi dovesse piacere E volete che vado anche fuori a registrare Come facevo una volta Lasciamo più di 20.000 like Se io vedo che ci sono un sacco di like Visite e commenti e condivisioni Allora io ve lo riporto Perché a me farebbe solo esclusivamente che piacere Allora, come potete vedere Questi sono i miei Pokémon più forti Ho Cicciogamera 89 che sta 2393 Poco più sotto c'è Joker E poi ho il mio Squirtle preferito Ho 141 caramelle Significa che noi intanto lo possiamo far evolvere Non ho trovato Squirtle migliori Quindi, dato che io voglio Blastoise Voglio Blastoise ragazzi Non resisto, quindi ok Tra l'altro ho scaricato Pokémon Go sul tablet dell'invidia Quindi oggi la registrazione sarà pazzesca ragazzi Sia di qualità ma anche con il livello giusto Di Pokémon Cosa che purtroppo non posso fare Quando vado fuori Allora, con 4 caramelle potrei potenziarmelo Speriamo di non sbagliare Perché Ok, credo che Sia andato bene Posso potenziare un'altra volta E ce l'ho al 1000 E secondo me Non sarebbe male Non posso più potenziarlo Ma Allora, io spero che mi tenga Idropompa in morso Speriamo che l'evoluzione sia decente Perché sapete che L'importante Non è tanto proseguire Cioè idropompa è perfetto Se mi rimane con idropompa Ragazzi Sarà un Blastoise Della madonna Signori È un'emozione È da quando è uscito sto gioco Che volevo Blastoise C'ho Venusauro Ma il mio preferito è Blastoise Non è che ve lo dici C'ho il pupazzo di Blastoise Là sopra Cioè non so se lo vedete Ma tipo là c'è Blastoise Signori Questo per me è un momento magico È un momento magico Fate quello che vi pare Ma avere Blastoise per me Tra l'altro per chi vuole C'è tutta la serie di Pokémon Blu Sul canale Oh mio Dio Ed eccolo qui Guarda quanto è bello È bellissimo Ti prego Fa che sia un Pokémon della madonna Guarda Sicuro mi è venuto scrauso Livello 1752 Ok Mi ha tenuto Comunque Idropompa in morso È un XS Pesa solo 55 kg Pensavo che mi venisse È un pochino più alto Posso dire la verità Però questo è il massimo Del mio Blastoise In questo momento È il massimo Che c'ho Però 1700 E rotti Sinceramente Sono contento Sono contentissimo Allora Dato che prima Stavamo parlando Di evoluzioni E qua ci mette un po' Caricare roba Tra l'altro C'ho diversi Pokémon Abbastanza buoni Ad esempio C'ho Censi A livello 837 Che non è Male Però non posso Farlo Evolvere C'ho anche un Abra Che è molto bello A 704 Ragazzi Non riuscirò Cioè potrei fare Abra Catabra Ce lo facciamo Catabra Perché secondo me Lui è forte Secondo me Lui è forte E me lo voglio Tante nude Possiamo farlo anche dopo Dai Perché non credo Che troverò un Abra Più forte così Perché mi è uscito Da un uovo E secondo me è abbastanza difficile Poi ditemi se sto facendo errori Però Catabra ragazzi Per chi lo sa pure Abra Catabra E Alakazam Sono i miei preferiti Cioè io c'ho La squadra che avete visto Nella serie del primo Pokémon Blue Quella è la mia squadra preferita Proprio quella che ci tenevo da piccolo 1170 che tanto male Non è Butta via Butta via Abbiamo anche un altro Slowpoke Niente male Che potrei fare evolvere Ma neanche tanto Perché non gliela fa No in realtà si In realtà si Perché mi mancherebbe Quella per farlo diventare così Però in realtà Già ce l'ho Cioè se noi andiamo sopra Perché non credo Che quello Slowpoke Sia così incredibile Ho Slowbro A 1619 E quindi direi Di tenercelo Buon buonino Io volevo portarmi su Tanto non riuscirò A portarla più di tanto Sicuramente La pecorina Melip Che magari magari Io la farei diventare Quell'altro Massi Ma dai ma che ce frega Tanto al limite Se va in giro E se ricatturano cose Quindi facciamo un po' Di evoluzioni Come ho detto Blastoise Non è fortissimo Ma proprio nel cuore Ragazzi Poi ho schiuso Diverse uova Ultimamente Eccola qua Pure lei è fortissima Non mi ricordo In che serie L'abbiamo portata Lei Mi sembra Nel Boh non mi ricordo Non voglio di cavolate Ma lei è fortissima Infatti 790 Non è Ma diventa un rettangolo Cioè se lo facciamo evolvere Diventa Un rettangolo Diventa Si toglie da Merip E diventa un rettangolo Incredibilmente Poi sotto Altra robetta C'ho pigi Insomma C'ho roba che non è che C'ho uno snorlax 240 Poverino Che non si sa Perché sta là Per il resto Ah tra l'altro Ragazzi Io Ho trovato Ve lo devo far vedere Ve lo devo far vedere Ho trovato Un ivi oggi Veramente Devastante Uno dei più forti Che ho trovato Aspettate Perché mi sembra Allora facciamo da là Alla zeta Che così almeno Non ci sbagliamo E No E andiamo Su ivi Che speriamo Di non aver saltato Vediamo un po' eh Ok L'avevo saltato Quindi Torniamocene Sopra Perché non ce ne ho tanti Quindi Perché ho fatto un po' di pulizia Ho tolto 170 pokemon L'altro giorno Eccolo qui Al 644 E ragazzi Guardate quante caramelle C'ho Quindi Me lo porto Su prima Anche se Mi è stato detto Che non è Che sia così Particolare La polvere di stelle Ce ne ho abbastanza Oggi per sto video Ne sto sprecando un po' Ma direi Chi se ne frega Quindi Portiamo Sopra Mi servirebbe Uno di fuoco Sinceramente Cioè se mi esce Quello di fuoco Sarei contento Sapete che C'era anche il metodo Che mettevamo il nome Eccetera eccetera Ma mi piace più Che sia libera Come cosa E vedere dove Porterà il cuore A questo ivi Vediamo un po' eh Perché sicuramente Ok Un vaporion Che tra l'altro È uno dei più forti Anche se è stato nerfato Vaporion Però dovrebbe essere Uno dei più forti E infatti Al 2334 Purtroppo Già ho visto Che i suoi attacchi Non sono incredibili Purtroppo Già l'ho visto Vedete Ho diversi vaporion Molto forti Vedi questo qua Per esempio Vabbè C'ha idropulsare Che non è tanto male Poi c'ha pisto l'acqua Però c'è tutto bagnato Che è una bestia Infinita E potremmo Portarlo su E sapete che c'è Tutto bagnato È sempre stato Un bravissimo ragazzo E direi che potremmo Portarlo Effettivamente su Tanto le polvere di stelle L'ho prese Per consumarle E sinceramente Tutto bagnato Mi deve andare su ragazzi Lo voglio portare su E diventerà sicuramente Uno dei pokemon Più forti che ho Madonna Mi piange il cuore A vedere tutta quella Polvere di stelle Che se ne va via Ragazzi Non so se ve lo fa anche a voi Ma Ok E infatti No non diventa il più forte Ma quasi ci siamo Geritos potrebbe essere Potenziata ancora un pochino E sinceramente Non è uno dei miglior Geritos Viventi Perché comunque C'ha Dragobulsar Che comunque Non è male Però Ci sta Anche lui Possiamo portarlo su Non ce n'ho tantissime Sto dando una potenziata Generica alla squadra Che non mi sembra male Qui per raggio Lui è molto forte Lui è molto Molto forte Ragazzi Lui è veramente Molto molto forte Fatevi gli screen Magari della vostra squadra Poi c'è Taggatemi su Instagram Ciccio Che è il trattino Basso 89 Questo qua Lo sapete che anche lui È molto forte In realtà L'ho usato un paio di volte Facendo dei combattimenti E anche lui è molto forte Perché mi dà fastidio Aversti i Pokémon A livello un po' bassino Però è così Che me lo sta dando il gioco Quindi in realtà A noi va bene Poi mi sembra che anche De Schizzo Era abbastanza buono Non incredibile Ma abbastanza buono D'accordo Tra l'altro Vi faccio vedere I Pokémon Vi faccio vedere Che sto schiudendo Diverse Uova Signori io spero Che questo ritorno Vi sia piaciuto Grande Blastoise Signori se il video di oggi Vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento A vostri 5.89 Ciao ciao